...un abitamento, perfetto, allora vediamo Oh, Cienlani! Cienlani che si è fatto? Ma cosa è successo? Non so, non capisco, io... S S S No! Scendi! Non posso! Ho detto scendi! Eh no! Ah no scendi eh? No! Non mi riso che scendo eh! Non mi a scendere! Scendere! Scendi! 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 Oh no! Oh no! Oh professore che si è fatto? La gamba Oh mio dio Eppure questo va sotto